Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, siamo tornati con un nuovo beta dopo una settimana, non me l'aspettavo, però vi dico fin da subito che questo non sarà un update eclatante, è un po' come quello precedente, aggiunge solo il rame, i blocchi e la lightning rod. Ma l'importante è almeno che gli updates escono comunque. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di attivare le modalità sperimentali, che questa è una beta quindi vi consiglio di sperimentarla in un monotest, non in mondi a cui tenete, penso possa essere tutto quindi cominciamo. Iniziamo innanzitutto con il minerale trovabile sia in creativa che anche in natura e abbiamo anche i vari blocchi, ma a quello ci arriveremo. Parlando invece per la texture, secondo me ha dei problemi, i colori sembrano spenti e le chiazze di rame poco visibili. Ritornando al video, oltre ad essere trovabile in creativa come detto prima, è anche trovabile nelle caverne e come loro tramite la cottura possiamo ottenere i lingotti, tramite quest'ultimo possiamo creare i blocchi oppure la lightning rod, ma quello lo vedremo successivamente. La cosa particolare di questo blocco è che se viene esposto all'acqua, per esempio la pioggia, possiamo assistere ad un lento processo di ossidazione e possiamo notarlo più nel dettaglio prendendo ogni singolo blocco che va a rappresentare un ossidio specifico. Il primo ha quello a sinistra l'ossidio base, il secondo e il terzo invece una fase intermedia dove pian piano il blocco comincia a perdere il suo colore originale e il blocco ossidato. Ma se vogliamo fermare questo processo o meglio prevenirlo, possiamo craftare una controparte con l'onicomb, infatti l'onicomb può prevenire il processo se lo facciamo con un blocco di rame intatto oppure può fermarlo se già iniziato, come sto facendo in questo caso con il blocco dello stadio intermedio. Inoltre possiamo ottenere un'altra variante, tramite lo stone cutter ho sempre la crafting table, ovvero il cut copper, in sostanza il blocco di rame a mattonelle. E solo tramite quest'ultimo possiamo ottenere scalini oppure lastre. E come i blocchi base hanno anche il processo di ossidazione e le loro controparti di onicomb. Ma adesso passiamo alla lightning rod, craftabile con tre lingotti, in sostanza attira qualunque tipo di fulmine nel raggio di 64 blocchi e questo può essere molto utile da mettere sopra le case, per evitare che i fulmini colpiscano le parti in legno o il tetto di una casa. Ma inoltre, quando un fulmine colpisce una lightning rod, quest'ultima invierà un segnale alla redstone, quindi molto utile per creare anche circuiti. Tuttavia, con un tridente con canalizzazione possiamo far spawnare direttamente un fulmine sopra di esso. E come noterete infatti si genera, anzi, la lightning rod invierà un segnale alla redstone e il pistone si attiverà. Tutto ciò può essere molto interessante per fare esperimenti strani, ma anche semplicemente meccanismi o circuiti un po' particolari. Dopotutto, devo dire che quest'update si sta dimostrando molto più ambizioso di quello che pensassi. Detto ciò, siamo alla conclusione del video. Spero, nelle prossime settimane, in delle beta più corpose. Vi ricordo, come sempre, di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di condividerlo, di iscrivervi e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati. E inoltre, nella sezione commenti, troverete tutte le informazioni riguardanti l'update. Detto questo, ciao alla prossima.